Da Conad non trovate dei semplici soci. Ci impegniamo ogni giorno a valorizzare i prodotti migliori del nostro paese. Coltiviamo il rapporto con le persone che ispirano da sempre il nostro lavoro. Siamo nelle case di circa 10 milioni di famiglie. Ascoltiamo tutti e creiamo valore per tutti, dal produttore al cliente. Senza girarci troppo attorno, una comunità è più grande di un supermercato. Conad, persone oltre le cose.